L'ecoendoscopia è una tecnica che ci consente di studiare tutta la ghiandola pancreatica, quindi la testa, il corpo e la coda, dall'interno dello stomaco e dall'interno del duodeno. È quindi eseguita con una sonda endoscopica che vedete qui appesa e all'apice della sonda c'è una parte ecografica che consente di scansionare ecograficamente tutta la ghiandola da molto vicino perché siamo all'interno di organi cavi che si appoggiano alla ghiandola. Permette quindi di fare delle diagnosi molto accurate di lesioni anche di piccole dimensioni, pochi millimetri, sia solide che cistiche. La vicinanza della sonda all'organo da studiare consente anche di fare un prelievo per citologia o per istologia. Esatto, in queste immagini vedete per esempio una lesione di piccole dimensioni che appare comunque molto grande nello schermo proprio per l'alta risoluzione di immagini della metodica e questo è il lago che serve appunto per prelevare delle cellule. L'esame viene eseguito con assistenza anestesiologica e infatti presso il nostro centro abbiamo proprio spinto affinché, essendo un esame semi-invasivo, mini-invasivo, per otterrare il maggior comfort per il paziente che tutte le condoscopie vengono eseguite con l'assistenza anestesiologica. Grazie a tutti!